Giovedì 24 marzo, l'informazione di Senigallia Web TV. Bentornati. Per due anni sono stati sempre insieme una love story che sembrava destinata a durare per sempre, invece col tempo è deteriorata per interrompersi nel peggiore dei modi. Botte, pugni, calci, minacce. Lei riesce a scappare dall'appartamento del fidanzato grazie all'intervento di un vicino, lui che viene denunciato per lesioni e violenza privata. Martedì si è concluso il processo, è stato condannato a tre mesi di reclusione e al risarcimento di 4.000 euro. Il 25enne, senigalliese, operaio, che il giudice ha riconosciuto colpevole delle gravi lesioni provocate dalla sua ex di due anni più piccola la sera del 23 giugno 2013. Non ce l'ha fatta, Guido Perissi, il pediatra in pensione di 78 anni investito sulle strisce pedonali lungo lo stradone Misa di Senigallia il 4 febbraio scorso, mentre attraversava la strada insieme alla moglie. Perissi è morto mercoledì in ospedale al Sant'Orsola di Bologna, dove era stato trasferito dopo l'investimento. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative alla richiesta di contributi straordinari volti a prevenire gli sfratti nei confronti dei conduttori in temporanea difficoltà economica determinata dalla perdita o dalla diminuzione della loro capacità reddituale. I moduli necessari possono essere ritirati all'ufficio Servizi Sociali, all'ufficio Relazioni con il pubblico oppure possono essere scaricati dal sito web del Comune di Senigallia www.comunesenigallia.n.it. La domanda dovrà essere riconsegnata al Comune entro il 6 di aprile. Assemblea partecipata a Città Sant'Angelo in Abruzzo con oltre 300 operatori balneari. Si sono riuniti insieme ad Anci e Regioni per discutere di tanti temi di stretta importanza, uno su tutti, le concessioni balneari riviste a ribasso dalla normativa europea Volkenstein. Sei anni la durata delle concessioni balneari per l'Europa, almeno 30, dicono i balneari, altrimenti non si riesce a fare impresa. La comunità europea non conosce il sistema balneare italiano. Da noi il concetto balneare è quello vero, cioè quello che risponde alla richiesta della clientela. Per fare questo bisogna creare i servizi che servono. In Italia questi servizi ci sono. Sono imprese gestite da famiglie. Le famiglie per generare l'impresa, siccome il terreno è dello Stato, tutto quello che è sopra, che è stato costruito è di proprietà della famiglia imprenditrice, ma per farlo non ha fatto come l'artigiano che quando costruisce il capannone dà alla banca come garanzia il capannone, perché è il suo. Da noi, se tu costruisci lo stabilimento, devi dare in garanzia beni propri, cioè casa tua. Quindi oggi non è più solo un problema economico che si cerca di smantellare un sistema che funziona e non si capisce perché. È un problema anche sociale. Cambiamo pagina. Festività Pasquali all'insegna dell'arte e della musica. È quanto propone Senigallia grazie alla mostra a tempo sospeso di Gianfranco Pico Romagnoli, che sarà allestita nella suggestiva cornice della Rotonda Mare dal 26 al 30 marzo. La mostra che sarà anche una contaminazione di linguaggi artistici con gli intermezzi musicali organizzati in collaborazione con l'ente Concerti di Pesaro e con la partecipazione dei giovani talenti del Conservatorio di Musica Rossini di Pesaro. Due ore e mezza di gioco e alla fine la gioia per il ritorno alla vittoria della Punto Più Senigallia nel girone promozione di Serie D femminile di pallavolo. Le ragazze di Cocci Paradisi hanno spugnato il campo del Porto Potenza Picena per 2-3. Il successo tiene vive, a due giornate dalla fine della seconda fase del campionato, le possibilità di accesso ai play-off, promozione o addirittura di promozione diretta. È in programma per il 31 marzo presso la Sala Marulli l'Assemblea pubblica d'Ostravetere organizzata dall'amministrazione comunale. Con quali obiettivi? Lo abbiamo chiesto al sindaco di Ostravetere, Luca Memè. È l'obiettivo che ci siamo dati dall'inizio e non è una novità questa. Noi a cadenza di ogni sei mesi circa facciamo un'assemblea pubblica soprattutto per ascoltare i cittadini. Ecco, in questo appuntamento che cosa si potrà chiedere e come sarà organizzato? L'organizzazione è che più o meno raccontiamo di solito quello che si sta facendo in quel periodo e poi ci mettiamo ad ascoltare. In questo periodo si parlerà di sanità, visto che se ne è parlato anche in Consiglio Comunale, si parlerà di rapporti tra convenzioni, unioni, eventuali fusioni e quant'altro. Ecco, lei ha citato questo tema, questo argomento molto in voga. In questo momento stiamo vedendo e sta partendo l'Iter ad esempio al nord delle Marche con diversi comuni. Qual è la sua posizione, quella del Comune, sulla possibilità di questa fusione o unione con i comuni limitrofi? Noi per quanto riguarda fusione non abbiamo mai parlato o mai trattato rapporti con nessuno perché sono percorsi che eventualmente vanno maturati nel giusto tempo. Per quanto riguarda l'accorpamento di servizi siamo già convenzionati con il Comune di Ostra, per quanto riguarda la possibilità di un'unione riteniamo che sia una cosa opportuna avere un'unione fra diversi comuni per poter inserire dei servizi per poter creare efficienza e risparmio. Diamo un'occhiata come al solito alle previsioni del tempo di venerdì 25 di marzo. Cielo sereno o al più nuvoloso a sud, assenti le precipitazioni, i venti settentrionali deboli sulle zone interne, più tesi sulle costiere e le temperature in ripresa nei valori massimi. Previsioni elaborate da Assam. Grazie per averci seguito, come al solito si chiude qui il nostro videogiornale, l'appuntamento è per domani.